Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV24. È scattato alle 23.15 di ieri sera l'allarme per un flickrimeber che si era ferito sull'ultimo tratto della via Bianchini, la parete est di Rocca Pendice a Teoro nel Padovano. GM, 52 anni di stra, ha perso l'equilibrio mentre il compagno, primo di cordata, lo stava recuperando in sosta, cadendo per un paio di metri e sbattendo con violenza sulla roccia. A causa di una possibile lussazione della spalla non era più riuscito a muoversi. Una decina di operatori del soccorso alpino di Padova sono saliti in cima alla parete a piedi, trasportando una barella e l'attrezzatura. E dopo aver allestito le calate sulla verticale, hanno fatto scendere di una ventina di metri un tecnico e un'infermiera della stazione che hanno prestato le prime cure all'uomo. Una volta immobilizzato e adagiato sulla barella, l'infortunato è stato sollevato verso l'alto, fatto uscire dalla via e trasportato a spalla lungo il sentiero di rientro fino all'ambulanza, a cui è stato affidato per essere condotto all'ospedale di Avano Terme. Lì l'uomo è stato sottoposto a un intervento d'urgenza che si è concluso alle 3 di questa mattina. Un altro allarme è stato lanciato invece proprio questa mattina alle 8 in quel di Venezia a seguito dell'avvistamento di un corpo esanime in acqua nei pressi dell'isola di Torcello. A occuparsi del recupero del cadavere sono stati i vigili del fuoco. Al momento non sono noti altri particolari. I carabinieri sono arrivati sul posto poco dopo i soccorsi e hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità della persona e stabilire le cause della morte. Ammonta 138 mila euro complessivi, di cui 50 mila cofinanziati dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto. L'investimento appena concluso dai comuni di Sandonà, Musile e Noventa di Piave per l'acquisizione di un nuovo sistema di videosorveglianza. Da pochi giorni infatti il comando di Polizia Locale di Sandonà di Piave ha terminato l'installazione e il collaudo di 27 tra telecamere e lettori di targa per incrementare la sicurezza urbana dei tre comuni del Veneto orientale. Più precisamente a Sandonà di Piave ne sono state installate 10, due lettori di targa sulla rotatoria di via Martri delle Foibe e 8 telecamere. Altre 10 telecamere sono state installate anche nel comune di Musile di Piave, mentre nel comune di Noventa di Piave sono stati installati tre lettori di targa e quattro telecamere. Torniamo ora a Venezia dove la Giunta Comunale ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico-economica di una serie di interventi che verranno eseguiti alla palestra ad uso scolastico e sportivo Costantino Reier nei pressi del campo Sant'Alvise nel Sestriere di Cannaregio. I lavori, che verranno realizzati con un investimento totale pari a 3 milioni e 50 mila euro, inizieranno da un generale ripristino strutturale della copertura per eliminare una deformazione che impedisce il regolare flusso dell'acqua meteorica attraverso i canali di gronda anch'essi deformati. Si passerà dunque al potenziamento delle prestazioni antisismiche per poi riqualificare il manto di copertura dell'edificio con una contestuale riorganizzazione dei lucernai. Questo permetterà di usufruire degli spazi interni con una migliore gestione della luce naturale e un miglior controllo dell'acustica interna. Contestualmente verrà anche migliorato l'isolamento termico dell'involucro. Si procederà inoltre alla riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della pavimentazione in legno oltre che a riconfigurare e migliorare il sistema di illuminazione artificiale dello stesso campo in modo coerente con la nuova struttura di copertura. Non solo la struttura sarà sistemata ma anche le aree esterne attraverso la realizzazione di un nuovo campo da gioco nello spazio attualmente adibito a Chiostro in stato di abbandono. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e cogliamo l'occasione per fare i nostri più sinceri auguri di buon compleanno a Erwin Vendel che ha deciso di festeggiare i suoi 100 anni in quella che considera la sua seconda casa, ovvero Jesolo. Nonostante quest'anno sulla torta ci sia un numero a tre cifre Erwin ha deciso di attenersi al protocollo degli ultimi 50 anni. Insieme ai suoi familiari ha fatto le valigie ed è partito alla volta della località balneare veneziana. Raggiungendo l'hotel Cavalieri Palace dove ad attenderlo c'erano il sindaco Valerio Zoggia il direttore Giorgio Gagliardi dell'associazione Jesolana Albergatori e la consigliera Silvia Visentin. Beh intanto complimenti per i 100 anni. Grazie a tutti per il mio amico amico. Oggi è una festa per lei come fosse a casa e quindi Jesolo è una seconda casa. è la mia seconda casa e sono già contento di ritornare il prossimo anno. Magari giocando a golf. Ha detto che è molto importante perché lui si sente a casa perché noi lo stiamo trattando particolarmente bene. Ha chiesto se il prossimo anno anche a golf spiegano. Cosa le piace di più di Jesolo? Il clima, la meraviglia di strancio la nostra spiaggia, il nostro clima, gli hotel e l'ospitalità italiana. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora i prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie. 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 Grazie.